Giuliano, ma perché hai fatto una cosa del genere? Ma allora non viene più nessuno. Ma non viene neanche tua cognata? Ma è logico che non viene. Mo' si buttano tutte quelle spigole di mare. Mezzo milione l'una. Pasquale, cantaci una trantella, a queste chiese non ci pensi più. No, no, Giuliano, Giuliano. Giulia, ma chi la cantava? Mario Merola? No, mi dispiace, le canzoni di Stereggiato non le faccio. Ma non lascia stare. Carlo, perché non liberi il signore? Credo che a questo punto la sua presenza sia non coltura. E pagalo. Ma come, ma non era gratis? No, ho detto, è venuto gratis. Uè, ma che gratis è gratis? Gratis è morto. Hanno fatto anche il funerale in televisione. Comunque vi sbagliate, perché la musica allieta nel dolore. Viglia, tu si amava ferma, Giuliano e Pantagnani. No, 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 Giuliano. Ma non fare così, da. Calmati. Giuliano. Sì? So per io, ti sa? So per io. Grazie, Massimo, grazie. Quanto sei bello, grazie, Massimo. Brutta stronza. Mi dice, oggi sono otto anni che stiamo insieme. Prima del matrimonio diciamoci tutto. Ma tu sei mai stato con un'altra? Sì. Io no, mai, mai. Se io sto con una donna, sto con quella e basta, capisci? Sì. Allora, adesso, allora Darmo gliel'ho chiesto io. E tu, amore mio, unico grande amore mio, se me è stata con un altro. No. Sì, 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 sì. Con una della Dicos. Della Dicos. Della Dicos. Oh, ho capito, della Dicos. E da, e da. Tre anni fa. Sì. Medinavano un pregiudicato. Sì. E allora dovono fingere di essere fidanzati, no? E allora così, camminavano così, ecco, camminavano così. Abbracciati, abbracciati. E poi si baciavano, si baciavano. Sì. Scusa. Scusa. Sì? Con la lingua. No, no, no. Che hai detto? No, 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 no. E allora? Cosa vuoi sapere? E niente, 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 non vuole sapere. Cosa vuoi sapere? Non vuole sapere niente. Cosa vuoi sapere? No, ha chiesto lui, no, niente. Cosa vuoi sapere? Niente, niente. Si è scopato con Lucy. Hanno fatto, come dice lei, l'amore in macchina. Ma io l'ammazzo a lei, quello della Dicos. E poi mi ammazzo io. Senti, qui i discorsi stanno a zero, è un bastardo schifoso e io... Oh, perdonarlo, ma... Sei pazza, guarda che mi ha rovinato la vita, perciò non voglio più sentirlo nominare e ringraziaste che non è in galera. No, falla finita, io non ci voglio parlare, è chiaro? E tu vai l'inferno! Giulia, non fare così, so per io, so per io. Faccio male? No. È passato? Eh? È passato? Boh, non me lo do a fare. Lui pensa, Massimo, che lo conoscevo pure. Ogni volta che lo incontravo, tutto gentile, sorridente, così. Così. E io mi dicevo, vedi, con il lavoro che fanno, sta nella Dicos, riesce pure a essere sereno. E ci credo, si scopava a Miria. C'ha detto? C'ha detto? C'ha detto? Niente, 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 niente. Sto attaccendo.